CONTATTO! Lo prendo io. Colpite il mio avversario! CONTATTO! Fumogeno in arrivo! Il prossimo! Devo spiegare cosa accadrebbe se le locuste vincessero questa guerra? Non credo! Tornate là e vincete! CONTATTO! Colpite il mio avversario! Tornate un avversario! Contatto! Sì! Si torna alla lotta! Contatto, nemico! Buaviti soldato, non è ancora finito! Fumageno! Adoro quel rumore! Ne abbiamo capistato! Colpite il mio bersaglio! Ecco cosa mi piace vedere, continuate! Sì! Contatto! Non va bene! Contatto, nemico! Granata in arrivo! Lancia un aggravato! E vai! Lancia un aggravato! Colpite il mio bersaglio! Colpite il mio bersaglio! Colpite il mio sirote! Mi parla di lui! Pumageno! Medico! Devo spiegare cosa accadrebbe se le locuste vincessero questa guerra? Non credo! Tornatela e vincetela! Non credo! Colpite il mio bersaglio! Non credo! Non credo! Non credo! Non credo! Non credo! Non credo! Qualcuno mi sa dire esattamente cosa è successo! Non credo! Non credo! Non credo!